Professore, secondo le sue esperienze, tra le variazioni che abbiamo indicato all'interno della nostra roadmap, alla quale ha lavorato anche lei insieme a noi, qual è la più significativa, quella di immediata realizzazione ad oggi sul territorio nazionale? Buongiorno a tutti e grazie a Cittadinanza Attiva perché devo dire che ci sono anni che in tempi non sospetti è iniziato questa avventura e questa battaglia enorme per un diritto di tutti i pazienti maculopatici quando ancora maculopatie se ne parlava veramente poco, troppo poco. Oggi io credo che il merito di questa roadmap sia proprio quello di essere qui tutti riuniti perché non è cosa da poco, guardate, essere oggi con le associazioni di pazienti, i cattedratici, i mari ospedalieri, tutti i dirigenti ospedalieri è un risultato epocale. Tenendo conto che nelle prossime settimane avremo finalmente una legge che porterà avanti tante istanze, tante domande che i nostri pazienti con malattie cronico-degenerative, maculopatie, glaucoma per esempio, stanno facendo da tempo. Le esenzioni, i LEA, i percorsi diagnosi psicoterapeutici, il diritto a una cura farmacologica diciamo che abbia delle basi scientifiche solide e non come purtroppo spesso accade un po' così raffazzonata. Il merito di questa roadmap, questa capacità coagulativa tutta intorno a questo tema che poi alla fine il bisogno fondamentale che tutti i cittadini ci stanno chiedendo. La collaborazione tra il mondo delle associazioni, il mondo del medico e anche il mondo delle aziende perché anche le aziende giocano un ruolo importante. Tutto è trainante per portare alla sensibilizzazione delle istituzioni e mi sembra che ci stiamo riuscendo perché insomma avere un bisogno di legge dedicato è una cosa molto importante per prevenire e curare meglio questo mondo di persone che poi ognuno di noi può un domani essere colpito dalla maculopatia o da una malattia cronico-degenerativa degli occhi per cui sono argomenti che poi ci possono toccare a tutti. Abbiamo Massimo Legustro, siamo conosciuti chiaramente da paziente e da medico ma poi come spesso succede, grazie Matteo Rosso, ma poi come spesso succede con le malattie, con questo tipo di malattie che sono malattie croniche, perché noi i pazienti ce li sposiamo, io l'ugusto non me lo sono sposato ma è diventato mio amico e lui ha avuto l'idea di portare avanti il comitato maculo proprio a difesa delle cose. Ma è soltanto dalla collaborazione delle associazioni di pazienti con i medici, altrimenti diventano due canali paralleli che non si incrociano mai e non dialogano mai tra di loro. Il dialogo tra queste realtà diverse ma comunque importanti e fondamentali. Grazie professor Riccolò.